ok per la quarta volta allora credo di aver trovato un sacchetto per farci un sacchetto di diritto apparentemente due cavalli hanno detto online e vai anche ai 200 all'ora contro il muro appondano l'ho notato prima ho fatto i treventi e tutti i treventi ci sono la questione la questione se siamo in prelobby se andiamo contro una camp quindi adesso vediamo c'è già tre volte che ci disconnette e tre volte che provo a fare il video la gente in chat probabilmente si starà chiedendo ma quali video? ah ma lo sapranno già è che è la quarta volta che sono qua ok non dobbiamo né arrivare né primi cioè possiamo arrivare primi se riusciamo ma anche se arriviamo ultimi non ce ne frega niente l'importante è da rappare e fare tutta vita se vi interessa alla fine se riesco vi faccio vedere la team ci vediamo dove esco di scettura che ci sta avanti dove esco di scettura ci sta avanti vediamo che ci sta avanti dove esco di scettura questa testa va non lo puoi eh, è baguata, voleva venire ragazzi, che si vada noticci, è mangiata, ho trovato un modo per fare più male, bello che era prima, ho cercato di farvi vedere, tutto ci, tutto ci... tutto ci erano diretti... però il... Grazie Pessima curva Ah, ce l'ho trovato Ok Quindi apparentemente Non dovete scantarvi contro le canzoni Cioè potete scantarvi contro le canzoni Prima ho trovato E mi ha tolto subito la comba Io ho la cosa della vita C'è un po' qui C'è un po' qui C'è un po' qui Mi piace che tutti amano la ride E macchine Chissà cosa Andiamo in due cavalli Iniziamo al premio design C'è un po' qui Ora faccio un pendolo Sì, adesso vi do a più di questa macchina C'è un po' qui C'è un po' qui C'è un po' qui E' un po' qui C'è un po' qui E' un po' qui Vai raga E' un po' qui E' un po' qui E' un po' qui Andiamo se riuscire C'è un po' qui Computare Sd Io Sì, senti che hai detto di barra massima, però non è vero. No, niente, non siamo riusciti Però manteniamola Ok, stiamo facendo un sacco di punte Abbiamo fatto 80.000 punti Ah, l'ultimo non ci ha superato, quello della Viper Ve l'ho detto, il sesto prestigio è il 210 Se state la mattina e la sera su sto gioco Compresi due giorni di film, magari anche 48 ore Adesso vi voglio vedere la Tune Dobbiamo ballare Sì Guardiamo i perk che abbiamo ottenuto Mentre gioco carico La chat per adesso Non ha messaggi, quindi siamo a posto Eh, ne abbiamo fatti 9 in più Quindi noi Adesso vi metto un attimo a parlare Ne abbiamo fatti solo 9 in più Perché? Perché abbiamo derapato tutto il tempo Se noi lasciavamo La combo a tipo 50.000 E poi ricominciavamo Secondo me facevamo un sacco di punti Tra i punti che fa Fa punti abilità, ne fa tanti E sta roba che puoi toccare il muro E non ho capito Ancora se è un bug o no Perché siamo andati contro l'albero Quindi non so È un mostro studio cavale Eh, volevo farvi vedere Mi ha messo a punto il codice Se lo volete scaricare Non era migliore Non vincerete Magari non vincerete Tutti gli eventi Non sono dungeon song Ma Vi provo a promettere una cosa Questa macchina Vi farà morire da ridere Morirete da ridere È troppo divertente Però Non sono dungeon song Però se guardiamo la mappa L'ho battuto O donjon song Con questi due cavalli Allora dov'è C'è un evento De rapate città Questo Sì Ebbene sì Ho battuto Donjon song Con due cavalli Sì È perfetto Per queste zone De rapate qua Nel gioco L'ho usata Un po' per tutte Le zone derapate Qua forse anche No Devo vedere No Non l'ho usato Per quella zona derapata lì Però un po' di record Disseminati Vabbè Il video è terminato Facevamo vedere un attimo Il codice di nuovo Mi si è spezzato un po' il cuore Sinceramente Quando ho preso Quell'albero lì È andata via la combo Però avete visto tutti Che Mi sono schiantato Tante volte Non è successo niente Poi i punti che si fanno Sono assurdi Rispetto alla macchina Di Wolf Griffin Jr Ne fai a metà Con la macchina di Wolf Griffin Jr Adesso giocare online Arrestarsi tipo per un secondo E poi ripartire Non piace a nessuno Non lo farai neanche io Però Se volete provare una macchina Che vi piace Che vi farà moglie da ridere Questa l'ho fatta io Questa l'ho fatta io Se non vi piace Non vi piace Pazienza Ma per chi la vuole provare Fammi ridere Niente il video è terminato qua Adesso è da tutta la giornata Che provo a fare questo video Quindi basta Provate anche voi Con questa tune Andare online E guardare se Vi toglie effettivamente I punti e abilità Perché a me non merito a ieri Ho fatto una gara Prima Poi ho deciso di fare questo video E non mi ha dato Ho fatto 125.000 punti Abilità E non mi ha E mi schiantavo ovunque Il gioco non mi ha detto niente Adesso Con sto albero qua C'ho il dubbio Voi potete provare Se volete fare Un sacco di punti e abilità Vi fermate sul ciglio della strada E ricominciate Ok Niente Tornato il Re B Re B saluta YouTube Che questo sarà Un video che andrà su YouTube E questo è il codice E ci vediamo alla prossima Provate anche voi